Bentornati a una nuova puntata di Just Walking Road. In questa nuova spedizione, dopo aver fatto scalo a Barcellona, attraverseremo in auto le province di Catalogna, Aragona, Mursia e Andalusia. Un viaggio on the road alla scoperta della Spagna meno conosciuta, fino a raggiungere la zona più meridionale di Capotecata, sul Mar Mediterraneo. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi viaggi. Stiamo percorrendo la strada pontina, giusto? Giusto. Veniamo da Ponezia e ci stiamo dirigendo verso Civitavec. per raggiungere ovviamente Barcellona. Stiamo raggiungendo il porto di Civitavecchia, pronti a imbarcarci presto. Grazie a tutti. 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 Siamo qui al porto di Civitavecchia e stiamo aspettando. Sono le 20.53. L'imbarco è previsto per più o meno le 23.59. Sono la Grimaldi. Attendiamo di salire a bordo. Grazie a tutti. 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 dopo lunga attesa siamo saliti finalmente sono le ore 22.55 siamo pronti il nostro viaggio finalmente inizia il nostro viaggio 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 sono le 10.05 abbiamo lasciato da mezz'ora circa Porto Torres quindi siamo in Sardegna e questo è tutto il colpo di Porto Torres davanti a noi la Spagna c'è un leggero vento da sud ovest per cui la giornata è perfetta un po' di umidità però la temperatura è giusta è un mare praticamente splendido la navigazione è veramente ottimale la prima volta è un'altra Stiamo sulla Grimaldi Airlines, mattina ed è una bella giornata stamattina. Quello che penso che forse il modo migliore anche per raggiungere la Spagna sia anche via nave, la differenza di prendere l'aereo, che magari con l'aereo si è più pratico e più veloce per provare la nave, perchè non è una nave che voglio dire più cose, il paesaggio, i posti. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Alle mie spalle Barcellona, siamo finalmente arrivati in Catalogna, c'è tutto il golfo, una miriade di luci, un'atmosfera bellissima e Barcellona è tutta da scoprire, lo scopriremo insieme nei prossimi giorni. La traversata finisce qua, come quella di Cristoforo Colombo. è un'atmosfera bellissima. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sono le 10.35 e siamo arrivati a Barcellona e adesso ci dobbiamo muovere per Tarragona. sono circa 1 ora e 8 minuti di macchina, per poi domani visitare la città. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!